in regalo uno con la dish dante dante da decenni desiderava due donne sto andando al mare dovevo aspettare il bus per andarci poi dopo dieci minuti non è arrivato mi sono stufato mi sono detto vabbè dai tre chilometri a piedi che ci vuole fa un po caldino e quindi ho usato la maglietta come copri testa ma perché tu sei facebook si qua più che altro li faccio li metto su youtube carico dei mini blog metto varie cose questo è il problema del mio canale pisolino post brandiale perfetto per potersi poi presentare prontissimi partite dalla storia e poi vedete cosa in questa storia riuscite a tradurre quello che vi dicono nei libri di storie di filosofia però è solo una parte della verità violentarono vergini vittimizzarono vecchie vedove viziose varcando vene violace varie cose voraci vissero visceralmente vicissitudini vergognose io vorrei che faceste un applauso per lui ma anche per margherita per raffaella per angela che animano questo festival in questi giorni ciao sono margherita rasulo il mio ruolo nel festival è organizzatrice con il presidente francesco roseto che è il presidente dell'associazione presidio magna grecia sono raffaella imperio e faccio aiuto aiuto segretaria di un po di tutto quello che c'è da fare faccio ti ho invitato soprattutto ti ringrazio tantissimo per essere venuto sono francesco roseto direttore artistico del zene ma chi lo dedico? a non è da un po' Ho appena finito il romanzo Fiori per Algernon, in cui il protagonista, Charlie, si sottopone a un esperimento scientifico e nel giro di poco tempo diventa un supergenio, lui che era un mezzo ritardato mentale. Il problema è che, pur diventando molto molto intelligente, le sue relazioni personali, interpersonali, diventano più complicate. Il motto di Miglionico è latino ed è un tautogramma Milo Magnus Miles Munivit Miglionicum Magnis Muris. È così, vero? Se vi avvicinate vi regalo un raccontino. Dai! Grazie mille. Grazie mille, buonasera. Parto già io. E sei giunto secondo al concorso internazionale Lettera d'Amore. E quindi sono andato in Grecia apposta a cercare un documento che comprovasse la mia tesi. Stai single, se sei scalto. Mentre mi parlava, continuava a gattarsi insistentemente una scella. Mi perdoni? Sì. E potesse cambiare subito parole con lui. Predilige pennichelle pomeridiane. Prova passioni profonde per Paperina. Sono a Lavello, ultima tappa della Basilicata. Sto aspettando che mi vengano a prendere, ma si è perso il signore. Il signore non quello lassù. Insomma, mi avete capito. Lucani per vocazione. Cioè non ci obbliga a nessuno. Quindi, però... Dopo...